Non è sempre facile capire i segnali dell'innamoramento. Quando, poi, si è insieme, mille dubbi ci tormentano, saremo felici, compatibili. Uniti a rispondere ci pensano i segni. Ovviamente, la compatibilità di coppia dipende da molti fattori. Molti credono che l'amore dipenda anche dalla combinazione dei segni. Due punti queste sei coppie sono le combinazioni perfette secondo gli astri. Quelle che funzionano meglio in base alle caratteristiche di ciascun segno e che sanno come prendersi. Ad esempio, sai cosa è meglio non dire mai a un ariete? Punto non temere, il tuo segno e quello del tuo partner non combaciano. Puoi testare l'affinità tra i vostri segni zodiacali. Intanto, scopri tutto qui. 1. Ariete più gemelli Ariete e gemelli sono due segni che amano le novità, l'avventura e tutto ciò che è imprevedibile. Una coppia piena di passione che difficilmente finirà con l'annoiarsi. Ecco perché sono perfetti insieme. Il tradimento è il loro punto debole. Perché l'ariete non perdona mentre il gemelli forse sì, se non ha tradito prima lui. Vedi anche la compatibilità sentimentale tra i segni-segni zodiacali cinesi. Quali sono le loro caratteristiche e i segni zodiacali più belli? Sai quali sono? Il tuo browser non può visualizzare questo video-video di Giulia Scuffietti 2. Toro più cancro Il toro dona al cancro la sicurezza e l'affettività di cui ha bisogno e il cancro risponde aprendo al toro il suo cuore. Condividono gli stessi valori, fedeltà, generosità e attenzione all'altro, e l'erotismo è alle stelle. Entrambi tendono a non tradire, ma attenzione, perché se accade è guerra psicologica. 3. Leone più bilancia Il re dello zodiaco sa come apprezzare l'amabilità e il buon gusto della bilancia, che a sua volta soddisfa l'intraprendenza e la vitalità del leone. Loro sì che sanno come divertirsi, anche fra le lenzuola. E sono due segni perfetti anche nella fase del corteggiamento, perché l'uomo del leone viene conquistato dall'eleganza femminile. E anche l'uomo della bilancia. È tutto parte dei segreti su come conquistare un uomo in base al suo segno. Ecco ad esempio le caratteristiche principali di ogni segno. Il tuo browser non può visualizzare questo video-video di Lorenzo Marcheschi 4. Vergine più Capricorno Vergine e Capricorno sono due segni di terra che apprezzano uno stile di vita simile e viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Sono entrambi molti serie e coscienziosi, amanti della precisione e dell'impegno. L'affinità intellettuale è molto importante per entrambi, per cui ci sarà un'armonia perfetta sulla loro idea di coppia. E si sa, con l'intesa mentale arriva anche l'intesa sessuale. 5. Scorpione più Pesci Ecco una coppia bollente. Scorpione e Pesci sanno come soddisfarsi a vicenda da ogni punto di vista. Lo Scorpione farà sentire amato il Pesci con la sua intensità rara. Il Pesci soddisferà le esigenze di amore e di dedizione totale dello Scorpione, grazie alla sua amabilità e alla predisposizione ai sentimenti forti. 6. Sagittario più Acquario Sagittario e Acquario sono una coppia piena di fantasia e immaginazione, che lascia spazio al gioco e al divertimento anche in amore. Entrambi con la valigia sempre pronta, sempre disponibili a nuove avventure reali o immaginarie. Sono perfetti compagni di viaggio anche nella vita. Newsletter Mandatori Filled Sal Femminile Data Controller Collects this data in order to send you personalized commercial communications, subject to your choices. To find out more about the management of your personal data and to exercise your rights, you can consult our personal data protection policy. Go consigli, news, curiosità e tanto altro. Grazie a tutti.